come ci avete conosciuto tramite la pubblicità e poi ci siamo incontrati e mi sono trovato molto molto bene che esigenza avevate di trovare casa e loro me l'hanno trovata come piace a me e a gusto mio siete stata soddisfatta del nostro grado si molto moltissimo non poco da molto grazie